Lorenzo Spolverato ha superato il limite al grande fratello. I comportamenti del modello milanese hanno scatenato una vera e propria rivolta sul web con l'hashtag fuori Lorenzo in tendenza da giorni. Le recenti dichiarazioni di Lorenzo hanno ulteriormente peggiorato la sua posizione agli occhi del pubblico del GF. Anche Beatrice Luzzi, opinionista del reality show di Alfonso Signorini, si è unita al coro di proteste. Nella puntata di oggi del grande fratello in programma il confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L'amore nato tra i due sembra attraversare un momento di difficoltà a causa dei comportamenti sopra le righe del modello milanese. L'hashtag fuori Lorenzo è diventato virale con molte richieste di squalifica per Lorenzo che ha rivolto frasi offensive sia a Shaila che a Elena Prestes. Il video delle dichiarazioni di Lorenzo ha fatto il giro del web, suscitando indignazione sui social e richieste di provvedimenti da parte del team di signorini. Beatrice Luzzi ha espresso il suo parere sull'argomento, definendo Lorenzo molto aggressivo e sottolineando che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente con il passare delle settimane all'interno della casa. L'attenzione al grande fratello è alle stelle, con il pubblico che chiede a gran voce la squalifica di Lorenzo per i suoi comportamenti inappropriati. Resta da vedere se il team di signorini prenderà provvedimenti e quale sarà il destino del modello milanese all'interno della casa più spiata d'Italia. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news sul mondo della tv e del gossip.